Ishalawam Eccoci qua di nuovo un'altra volta per portare sempre un po' di edificazione e di esortazione al popolo di Israele, gli Asharala, i così chiamati negri, latini, taino, indios, nativi indiani d'America, terroni, siamo dispersi in tutto il mondo, attraverso la Sagra Scrittura, nel nome del Padre e Onipotente Yahawa, colui che è, per mezzo, nel nome di suo figlio, Yahawashai, colui che esiste, che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù. Mediante la Rokakudash, lo Spirito Santo, abbiamo l'unica e vera interpretazione della Sagra Scrittura che condividiamo dando da mangiare alle pecore perdute della casa di Israele. E iniziamo, oggi il punto che voglio portare è una parabola che si trova in Luca al capitolo 18, dal versetto 1 al versetto 8, è breve ma è intensa ed è importante perché ci insegna a non stancarci mai di pregare. Leggiamo, questo è Yahawashai che insegna questa parabola, che dice Luca, capitolo 18, dice Propose loro ancora questa parabola per mostrare che devono pregare sempre e non stancarsi. In una certa città vi era un giudice che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. E in quella città vi era una vedova la quale non andava, salachia, e in quella città vi era una vedova la quale andava da lui e diceva rendimi giustizia sul mio avversario. Praticamente in questa città c'è questo giudice che non è un credente, che non è quindi praticamente dicendo è un empio, è un malvagio, che chi non ha la conoscenza di Yahawashimia voshai naturalmente va contro il Signore. Chi non ha la dottrina, l'insegnamento, chi non ha lo spirito del padre ha lo spirito contrario a quello del padre. Quindi diceva in questa città c'è un giudice che non temeva il Signore. E in questa stessa città c'era una vedova la quale andava da lui a chiedergli giustizia su un torto che ha ricevuto dal suo avversario. E diceva rendimi giustizia sul mio avversario. Egli, il giudice, per qualche tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé, Benché io non temo a Dio e non abbia rispetto per nessuno, pure, poiché questa vedova continua a importunarmi, le renderò giustizia perché venendo a insistere non finisca per rompermi la testa. Giudice all'inizio non la accontentava, non la soddisfava, non gli rendeva giustizia, ma poi siccome la vedova insisteva, 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 lo molestava, perché comunque molestare significa insistere, insistere, un perseguitare anche. Poi se si va a vedere le origini o il significato della parola molestare o perseguitare significa anche insistere, un po' come noi siamo molestati e perseguitati dalla società, dalla bestia, che loro spingono, molestano e perseguitano per farci la puntura. Questo è un molestare, è un perseguitare, è per questo che chi ha la verità, chi conosce la verità, si tiene ben lontano dalle loro macchinazioni sataniche. Vado avanti. Il giudice dice l'accontenterò affinché non finisca per rompermi la testa, non perché gli tirasse un sasso sulla testa, ma perché gli facesse venire mal di testa continuando ad andare lì a molestarlo, a importunarlo, a insistere affinché gli rendesse giustizia. E il Signore Yahawashai disse, ascoltate quello che dice il giudice ingiusto. Yahawo Ba'ashem Yahawashai non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? Tarderà nei loro confronti? Infatti questa parabola ci deve far capire che come il giudice ingiusto è stato accontentato, ha soddisfatto la richiesta della vedova, come attrettanto il Padre Onnipotente, il nostro creatore Yahawo Ba'ashem Yahawashai, renderà giustizia ai suoi eletti, ai suoi santi che notte, giorno, che significa continuamente, lo pregano affinché si prenda cura di loro, si prenda cura di noi. Questo è quello che vuole dirci Yahawashai attraverso questa parabola, vuole dirci di non stancare mai di pregarci che vuoi. Così come un giudice ingiusto ha accontentato la richiesta della vedova, allo stesso modo il nostro Signore Yahawo Ba'ashem Yahawashai, è il re, il Signore dell'universo, è il giusto, il padre poi del nostro re giusto, accontenterà i suoi se continuano a pregarlo affinché realizzi un'opera giusta naturalmente, perché il Padre Onnipotente fa giustizia, se noi chiediamo cose vane o cose ingiuste non saremo accontentati, ma se chiediamo cose giuste e non stanchiamo di chiederle, saremo accontentati, senza dubitare. E quando pregate fatelo senza dubitare. Come ci dice in Giacomo Questo è Giacomo capitolo 1 versetto 5 dice Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfacciare e gli sarà data, ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Quindi quando chiediamo e preghiamo al Signore Yahawo Bashim Yahawashai di accontentarci in un nostro progetto, di realizzare il nostro progetto, non abbiamo dubbi che il Signore Yahawo Bashim Yahawashai non ci accontenti. Anzi, come dice il nostro Signore Yahawashai, preoccupiamoci prima di tutto di fare la volontà del Padre e di tutto ciò che abbiamo bisogno il Padre ce ne darà in più. Ve lo prendo. Questo è Matteo capitolo 6 versetto 33 dice, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Questo è nel capitolo delle preoccupazioni, preoccupazioni, qualsiasi ansia, preoccupazione che abbiamo in mente. Preghiamo il Padre Yahawo Bashim Yahawashai che ci realizzerà, però noi, non è che in cambio, comunque noi dobbiamo cercare il regno e la giustizia di Yahawo Bashim Yahawashai, cioè camminare secondo le sue leggi, secondo i suoi comandamenti, secondo i suoi precetti, al meglio delle nostre possibilità. E mentre noi camminiamo, cerchiamo al meglio delle nostre capacità di camminare nelle vie dell'Altissima, intanto continuiamo a pregare e non dubitiamo che non saremo contentati, perché Yahawo Bashim Yahawashai si compiace di realizzare ciò che noi gli chiediamo in preghiera senza stancarci. Chiudo con questa è la prima lettera di Giovanni, il capitolo 5, versetto 14, che dice Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa, secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Questa è la fiducia che noi abbiamo, ok? Che se chiediamo qualcosa, il Padre, secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Che naturalmente ricordiamoci anche quando Yahawashai gli chiese di evitare di bere il calice della crocifissione, delle torture, di essere messo in mano dei malvagi e di passare quella sofferenza, ma Yahawashai quando pregava diceva che sia fatta la tua volontà e non la mia. Per questo ho detto, se è giusto quello che noi chiediamo, sarà realizzato, ok? Pensandoci, non ho concluso il capitolo 18, manca l'ultimo versetto, il versetto 8, dopo il versetto 7 dice, dal versetto 6, il Signore Yahawashai disse, ascoltate quello che dice il giudice ingiusto, Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui? Tarderà nei loro confronti? Versetto 8, io vi dico che renderà giustizia con prontezza, Ma quando il figlio dell'uomo verrà, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra, questo che vi ho accenato prima. Yahawashai ci dice che il creatore onipotente ci accontenterà, ma quando Yahawashai tornerà sulla terra, troverà la fede, fede, certezza di cose che non si vedono, la troverà la fede sulla terra, perché, ripeto, noi dobbiamo camminare in spirito, in verità e in fede, per chiedere, pregare e essere realizzati dal Padre Onipotente. Quindi pensiamo a camminare per essere graditi a Yahawashai, Yahawashai, così quando pregheremo il Padre Onipotente potremmo avere la speranza, come abbiamo letto in 1 Giovanni 5, 14. Possiamo avere la speranza di essere esauditi. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, se domandiamo qualcosa, secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Quindi preoccupiamoci prima di fare la giustizia, di Yahawashim, Yahawashai, continuiamo a pregare, non smettiamo di pregarlo, e continuiamo a camminare secondo le sue vie. Che non possiamo chiedere se non dimostriamo di voler stare con Lui. Che queste sono le due strade di questo mondo. La strada dei malbagi, che è visibile davanti ai nostri occhi, o la strada della fede, che è invisibile ai nostri occhi, ma è forte nello spirito. Quindi se noi chiediamo al Creatore Onipotente una mano, se noi chiediamo un aiuto, se noi chiediamo qualsiasi cosa che è nella Sua volontà, dobbiamo essere con Lui, dimostrare che noi siamo con Lui, siamo i Suoi servi. E come dimostriamo che siamo i Suoi servi? Attraverso i Suoi comandamenti, attraverso la Sua via. Ok? Detto questo spero di essere stato edificante e voglio dare tutta la gloria, il potere e le adorazioni al Creatore Onipotente Mi doppio onore agli anziani e apostoli della Great Mission GMS per averci insegnato questa verità per il loro ministero a servizio di Yahweh e Yahweh e Yahweh e Shalom che significa pace agli eletti della Casa di Israele e alle dodici tribù che sono disperse in tutto il mondo predicando, vivendo, soffrendo e aspettando il ritorno del nostro Signore Yahweh e Shalom Shalom, amagyan, alla prossima